Anche in Sicilia si celebra la nona edizione della giornata di Confcommercio Legalità ci piace e viene fuori che nell'isola i costi dell'illegalità ammontano ad oltre un miliardo e duecento milioni di euro. Contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione alterano la concorrenza e comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Il perdurare della pandemia, commenta il presidente di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti, hanno determinato la necessità di concentrare l'attenzione su fenomeni criminali quali l'usura e sui tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico. Le imprese che non hanno ricevuto pieno soddisfacimento della propria richiesta di credito sono quelle sulle quali è stata calcolata dall'ufficio studi la platea di attività potenzialmente esposte al rischio usura. Dai dati emerge che in Sicilia quasi il 14% delle imprese del terziario di mercato percepisce un peggioramento della sicurezza nel 2021. L'usura è il fenomeno percepito in maggior aumento nel terziario di mercato, il 27%. Il trend è più marcato in Sicilia dove l'usura è indicata in aumento del 31% delle imprese. Il racket è in crescita stando alla percezione manifestata dal 21% degli imprenditori intervistati. L'11% ha avuto notizia diretta di episodi di usura ed estorsione.